Agropoli, Ascea, Capaccio Pestum e Positano sono tra i quattro comuni del Salernitano che hanno ricevuto la prestigiosa Spiga Verde e il riconoscimento assegnato questa mattina a Roma nella sala Spadolini della sede centrale del MIC. In totale sono 75 i comuni italiani premiati. Il programma Spiga Verdi arriva dalla FE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, che assegna anche le bandiere blu alle località costiere. L'obiettivo è quello di promuovere i comuni rurali, cercando di guidare nell'adozione di strategie di gestione del territorio che favoriscano la sostenibilità ambientale e migliorino la qualità della vita delle comunità. La FE e Confagricoltura hanno quindi sviluppato un set di indicatori, proprio con il fine di valutare le politiche di gestione del territorio e orientarle verso criteri di sostenibilità. Tra questi la partecipazione pubblica, l'educazione allo sviluppo sostenibile, un uso corretto del suolo, produzioni agricole tipiche, sostenibilità e innovazioni in agricoltura, qualità dell'offerta turistica, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, valorizzazione delle aree neutralistiche e del paesaggio, cura dell'arte urbano, accessibilità universale. Con le spighe verdi, ha detto il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino, viene messo in evidenza il valore del lavoro degli agricoltori, che diventa sempre più sostenibile grazie alle innovazioni e alle nuove tecnologie. I comuni premiati, dunque, si distinguono per il loro impegno nel promuovere pratiche agricole sostenibili e nel valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche del territorio.